Il comitato ha lavorato già al piano di azioni positive del 2016-2018 Il comitato è stato provato con il decreto del sindaco nel aprile del 2016 Per il resto un buon divertimento, ciao! Lui inviti bellissimo, se lo puoi tu mi fai ridere, se lo puoi lui inviti e voglio ucciderlo Comunque non abbiamo parlato di niente ... ... ... ... ... Grazie.